Cari amici fantallenatori bentornati da Carmi Special, siamo con un video tanto richiesto da voi fantallenatori per quanto riguarda quest'annata fantacalcistica Infatti ci sarà la Coppa d'Africa quest'anno a gennaio, gennaio-febbraio In realtà siamo stati un po' sfigati perché era in programma fatta diciamo d'estate Ma poi a causa della genialata del mondiale invernale è slittata anche questa Coppa d'Africa E quindi ci dovremo sorbire l'ennesima assenza di alcuni giocatori durante l'anno Ma attenzione perché un po' viene sopravvalutata questa situazione della Coppa d'Africa E' come se non si dovessero prendere completamente determinati giocatori No, cerchiamo di capire come bisogna comportarsi Innanzitutto come prepararsi, come gestire alcune situazioni E poi vediamo anche i giocatori che potrebbero essere assenti per il periodo appunto di gennaio-inizio febbraio A causa appunto della Coppa d'Africa E attenzione che andremo a vedere anche le incompatibilità, le famose incompatibilità tra alcuni giocatori Partiamo, andiamo a vedere appunto le slide che vi ho preparato Stiamo con una colorazione arancione perché quando vi porto ad esempio dei consigli come gli abbinamenti Oppure in questo caso con nomi specifici vado appunto con la colorazione arancione rispetto alla guida Che invece è una colorazione blu Anche se all'interno di questo video ci sono anche dei consigli di guida Che valgono sempre quando c'è la Coppa d'Africa Allora parliamo appunto delle regole sulla Coppa d'Africa Cioè quali sono le cose che bisogna considerare Che un pantaleno dottore deve considerare quando c'è una Coppa d'Africa di mezzo Allora, pre-asta, partiamo dal periodo di preparazione all'asta Bisogna conoscere la lista dei giocatori convocati o convocabili Convocati perché? Allora io mi sono un po' informato Diciamo io riguardo le squadre che parteciperanno Le nazionali che parteciperanno alla Coppa d'Africa Il problema è che se non erro, correggetemi ragazzi Ma alcune squadre sono ancora da delineare Ad esempio il Cameron che ha comunque tanti giocatori Nel giro della nazionale che comunque giocano in Serie A Ad esempio non è ancora tra le squadre ufficialmente qualificate alla Coppa d'Africa Quindi attenzione a questo discorso Ce ne sono alcune che già sono qualificate Altre invece che diciamo altri slot che dovrebbero essere poi delineati più avanti Quindi occhio a questo discorso In più mettiamoci anche un altro discorso Che ci sono tantissimi giocatori della Costa d'Avori Ad esempio che giocano in Serie A o del Cameron Però non tutti magari saranno convocati Dipende appunto dal loro livello Da come giocheranno magari nella prima parte del campionato Quindi occhio anche a questo discorso La certezza su alcuni nomi non li possiamo avere Chiaramente possiamo averla sui giocatori forti No scordatevi che Ozymane non venga convocato Per dire no? Poi dipende Magari sponda qualche infortunello particolare Ma vedremo Comunque quantificare l'impatto al Fanta della Coppa d'Africa Su ciascun giocatore Appunto Perché Cosa si intende? Magari su un determinato giocatore come Ozymane Cosa si va a fare? Si va a quantificare magari la perdita Di valore Cioè diciamo Ok Ozymane magari poteva fare Che ne so 25 gol 26 gol quest'anno Perdendo 5-6 partite Quanti gol potrei andare a perdere? 3-4 Quindi me ne può fare comunque una ventina Ok lo potrò utilizzare comunque in tot partite Sembra che non si infortuni Ok Allora il suo valore cala di un tot Ok la stessa cosa possiamo fare per altri giocatori Chiaramente più è importante il giocatore Più magari questo gap è ampio Ma soprattutto Bisogna poi considerare chiaramente l'incompatibilità Attenzione ad un altro discorso Anche se il giocatore è diciamo scarso Tra virgolette usato per copertura Comunque bisogna quantificare l'assenza Perché? Perché magari se lo andiamo a comprare insieme ad altri giocatori Potrebbe essere un problema E infatti Dobbiamo analizzare le incompatibilità di acquisto L'incompatibilità di acquisto si intende che io Il vero problema della Coppa d'Africa Non è acquistare un giocatore che ha la Coppa d'Africa E che quindi mi salta 5-6 partite Il problema è comprarne di più insieme Soprattutto nello stesso reparto Oppure se il mio Quando c'è ad esempio Koulibaly Il mio top di difesa Il mio top general gamble Il mio top d'attacco Tutti e tre sono assenti magari Nello stesso periodo Chiaramente può essere un problema Altra cosa magari si può considerare Di che nazionalità magari stiamo parlando Alcune magari effettivamente possono arrivare in fondo Alcune magari usciranno dopo qualche partita Comunque lì è importantissimo Analizzare le incompatibilità di acquisto Chiaramente quelle principali sono tra I giocatori che andremo ad acquistare come primo Secondo slot e terzo slot d'attacco Altre incompatibilità invece possono essere Magari dovute alla panchina che andiamo a comporre Se andiamo a comprare tre giocatori Nella nostra panchina Che sono tutti convocabili O facilmente convocabili in Coppa d'Africa In quel periodo potremmo avere un reparto Abbastanza scoperto Andiamo a vedere invece durante l'asta Come ci si muove Bisogna evitare appunto questa incompatibilità Quindi se ho comprato come detto Primo slot o simen Vado ad evitare secondo slot Lukman o Dia Ok? Comunque secondo e terzo slot Dobbiamo evitare magari poi quei giocatori Ok? Perché altrimenti si va a creare Una sorta di incompatibilità Le vedremo Le vedremo a fine video Quindi guardate tutto il video Perché andremo a vedere Quali sono le principali incompatibilità Usare Esche per Vincoli e incompatibilità Altrui Cioè anche lì Se vediamo che Tizio Ha comprato appunto Osimendo Chiaramente magari non è che Un attacco Osimendo e Lukman Mi faccia schifo Magari a farlo Ok? Però per dire Cioè se proprio dobbiamo lasciare Un determinato giocatore A quel fantallenatore Ok? Che ha già una Un vincolo Un'incompatibilità Di quel tipo Beh se proprio lo dobbiamo lasciare Possiamo lasciarla a lui In modo tale che Magari in quel periodo Possa andare in difficoltà Però attenzione Non è che gli facciamo L'affare Si compre Perché se Lukman Preso da noi Ok? A quel prezzo E' un ottimo acquisto Lo prendiamo noi Un quel Lukman Ok? Non è che glielo dobbiamo lasciare Per forza solo perché Lui già Ciao No si meno Un dia Ok? Per dire Andiamo a vedere adesso Invece La lista dei giocatori Ok? Abbiamo L'ho divisa in due In due pagine Partiamo dall'Atalanta Attenzione Potrei magari Essermi dimenticato Qualche giocatore Alcuni li ho lasciati Appositamente fuori Tipo Lat Lat Piccoli giocatori Che magari Non andremo a prendere Al Fanta Poi Voi Magari Volete fare un approfondimento Fatelo Oppure magari Mi sono dimenticato Qualche giocatore Che è appena arrivato Col mercato Che non l'ho considerato Suggeritemi Qualcosa Appunto Qui nei commenti Casomai Partiamo dall'Atalanta Boga Lukman Chiaramente Sono i più Interessanti Lukman E Diciamo Un giocatore Appunto Che dovrebbe essere Convocato Quindi Attenzione a questo Discorso Nel Bologna Ho messo Barro Quelli che hanno L'asterisco Sono quei giocatori Di nazionalità Non certe Della Partecipazione Ok? Ad oggi Ad oggi Almeno Se non sbaglio Ok? Quindi Quando vedete L'asterisco Vuol dire Che quel giocatore Se la sua nazionale Si Diciamo Quali via Potrebbe effettivamente Essere Nella lista Poi Cagliari Abbiamo Macombu Sulemana E Lubumbo Tre giocatori Tutti e tre Interessanti Macombu Magari Soprattutto Si potrebbe Prendere Per copertura Però Chiaramente Capite In quel periodo Magari Potrebbe Essere Assente Poi Non è detto Che la nazionale In realtà Magari Li convoca Questo tipo Di giocatori Perché Non è che sono Magari Più Famosi Più Forti Magari Di quella Nazionale Considerate Anche Questo Che è Questa Possibilità Io vi Dico Poi Nomi Dell'Empoli Chiaramente Ebuei Quindi Attenzione Anche a lui Fiorentina Amrabat Sabiri Kwame E Duncan Ovviamente Amrabat Sabiri Sappiamo che Sono nel giro Della nazionale Quindi Probabilmente Cioè È quasi sicuro Che saranno Lì Frosinone Oiono Oiono E Arrui Appena arrivato Tra l'altro Se non sbaglio Dal Sassuolo Però anche lui Non è detto Che sarà convocato Per forza Però potrebbe esserlo Nell'Inter Onana Anche se c'è il discorso Chiaramente Mercato Nella Lazio Akpa Akpro C'era anche un altro giocatore Però non l'ho Considerato E Nell'Ecce Malè Bandà Anche qui Non è detto Che la nazionale Li andrà a convocare Io ve li metto Perché Sono come Convocabili Ok Sisse Anche lui Passiamo alla seconda parte Abbiamo Come squadre Il Milan Con Balloture Benazer Monza Macin Napoli Zambangissa E Osimena Nella Roma Andica Che Sì Ho controllato Poi ragazzi Abbiamo parlato L'altra volta Live È nato In Francia Giusto È giusto Il discorso Di nato In Francia Però È nazionale In Costa d'Avorio E Aguar Poi Salernitana Coulibaly Sia L che M Ma Con nazionali Diverse Uno Mi pare Mali L'altro Non mi ricordo Se Sene Non mi ricordo L'altro Di A Volai Di A Simi Sassuolo Ho rimasto Bianche C'era anche Odei Oltre che A Rui Che però È andato Al Frosinone Nel Torino Gigi Singo Caramò Sec C'era qualcun altro Mi pare Conè Però questi Sono i principali Anche qui Non è detto Che Sec Era convocato Mi pare Dal Senegal O Caramò Dalla Costa d'Avorio Eccetera Potrebbero essere Convocati Ok Nell'Udinese C'è il Delirio Perché Praticamente Hanno mezza squadra Che sono Diciamo Di origine africana Quindi Ebosse Camarà Zemura Masina Ebosele Eizibwe Success Quindi capite bene Anche se fate una coppia Camarà Zemura Per dire Eizibwe Camarà Eizibwe Zemura Vi potreste ritrovare Con due giocatori Completamente inutili In un determinato reparto Se li andiamo A sommare A un dica Capite che si va A creare Quello che vi dicevo L'incompatibilità Nel Verona Abbiamo Tamez Ongla E Callon Anche qui Non è detto Che Ongla Verrà convocato Però io ve lo metto Nella lista Ok Proprio per essere Ad oggi Informati Poi valutati Chiaramente Durante il mercato Quali altri giocatori Magari arriveranno Con questa Etichetta Ok Vediamo quali sono Le incompatibilità Principali Che bisogna evitare In attacco Abbiamo chiaramente Osiman Lukman Che sarebbe Un bellissimo attacco Però dobbiamo essere Consapevoli Che in quel periodo Potremmo andare In difficoltà Osiman Di A Stesso discorso Lukman Di A Stesso discorso Magari Abbiamo un attaccante Più forte Magari come primo slot Insieme A Lukman Di A Vogliamo fare un bel Attacco Da Semitop Eccetera Però Il problema Che poi Per un mesetto Comunque un po' Di giornate In realtà Dobbiamo schierare Delle pippe In attacco Ok Quindi attenzione A questo discorso Poi Poi se ce li lasciano Come detto Come detto Queste coppie Ce li lasciano A prezzo Di saldo Lo facciamo Magari Perché poi In panchina Riusciamo a comprare Dei giocatori Comunque ne so Titolarissimi I vari caputo Eccetera Eccetera Che ci coprono Magari in quel periodo Mi va bene Tanto Domino Il resto Del Del Fanta Ci sta Che poi In quel periodo Magari Schiero Uno o due attaccanti Soffro un po' Però poi domino Tutto il resto Del Fanta Quindi attenzione A questo discorso Non vuol dire Che non bisogna Farle completamente Bisogna evitarle Chiaramente A prezzi esagerati Anche perché Come detto Potremmo Avere dei problemi Centrocampo L'unica vera Incompatibilità Che vi ho messo E se si fanno Assommare Tipo questi giocatori Zambangisawar Sabiri Vi fate una panchina Di questo tipo Potreste avere Un po' di difficoltà Ok In un determinato periodo Però Valutate Perché Centrocampo Già importa Un po' di meno In quanto Potreste valutare Se schierare Un 4-3-3 Quindi avete Magari altri Tre da poter schierare Questi tre Vi sono out E avete comunque Che ne so Due panchinari In più Comunque Va bene Per quanto riguarda La difesa L'incompatibilità Principale Che vi ho messo È quella appunto Dove magari Comprate Indicca Ewey Entrambi Convocabili Per la Coppa D'Africa E in più Qualche Codifesore Dell'Udinese Capito Non ho messo direttamente Udinese Perché ne ha 200 Quindi Occhio a questo discorso Va bene Detto questo Ditemi la vostra Se Considererete Questo discorso Dell'incompatibilità Se nella vostra Asta In passato Con la Coppa D'Africa Ci sono stati Un po' Prezzi strani A causa di questo Anzi Una cosa Che potreste fare È sfruttare Diciamo L'etichetta Della Coppa D'Africa Per far abbassare Determinati prezzi Magari Di Oseman Di Lukman Di Dia No? E portarveli a casa A un prezzo Magari Di saldo È una tecnica Che si può fare Però poi dovete sapere Che in quel periodo Magari ci sarà Questa cosa Da considerare Ok? Ditemi la vostra Detto ciò Spero vi sia stato utile Questo video Innanzitutto A livello informativo Sia Oltre che a livello Strategico Come detto Non ne facciamo un dramma Sul discorso Coppa d'Africa Non stravolgiamo Il valore Lo abbassiamo leggermente Perché chiaramente Si riduce Il numero di giornate In cui andremo A sfruttare Quel Quel giocatore Ma è molto più importante Cercare di evitare Eventualmente Questa incompatibilità Ok? O meglio di Una coesistenza Di giocatori Che hanno quel problema Altrimenti Se proprio Li dobbiamo prendere Dobbiamo Prenderli a un prezzo di saldo Che ci permettano Comunque di solidificare In altro modo Il reparto Va bene? Detto questo Io vi auguro Una buona preparazione Estiva Ci vediamo Domani Con un'analisi Particolare Su una delle neopromosse Si parte con l'analisi Tattica sulle squadre Va bene? Non mancate Un abbraccio Da Carmi Ciao Ciao No